Così a Lourdes sono guarita, parla la donna che dopo essersi bagnata nell'acqua della grotta ha ripreso a camminare senza stampele. Ed ecco il suo racconto alla vita in diretta. Sono andata in acqua, mi ha portato Paola, sono andata dentro l'acqua. La mia forza di volontà voleva andare subito, presto, a prendere quella madonna, a baciarla, a stringere tra le mie mani. Dopo ho fatto questo, ero asciutta, mi hanno rivestito e sono andata là dove stanno tutti quanti, altre persone. Sono entrata là, mi sono messa a ballare, contenta, a danzare, a saltare. Una cosa dentro di me, una cosa interiore che andava uscito fuori, che doveva vivere, ricominciare un'altra vita, andare in avanti e vivere, non vivere. Ma c'è stato un momento in cui lei ha avuto la percezione esatta, precisa, che poteva camminare, credo, le sue gambe? In quel momento per buttare il bastone sono cominciato a camminare, dentro di me. Non mi sono messa a ballare, a cantare, a essere contenta e felice, da quel giorno sono sempre felice, sempre. Maxi, sequestro di beni della mafia in Sicilia, oltre 300 milioni di euro in aziende, immobili, conti correnti.